Un ulteriore momento di attrazione per la nostra città, in questa occasione che si festeggia la sezione napoletana, la presenza di tutti gli arbitri italiani a Napoli è sicuramente un motivo di soddisfazione anche nella nostra casa comunale al Maschiangioino, quindi una bellissima giornata per Napoli e per lo sport. Il centenario della sezione napoletana dell'Associazione Italiana Arbitri è stato celebrato oggi nella Sala dei Baroni del Maschioangioino, ospitando tutti i vertici italiani del settore. Durante la cerimonia è stata tracciata la storia e si è fatto il punto sul presente della famiglia arbitrale, dei suoi valori e dei suoi personaggi, a partire proprio dalla sezione napoletana, che conta 520 associati ed è presieduta dall'arbitro internazionale Fabio Maresca, a cui è stato anche consegnato un riconoscimento da parte del Comune. E di grazie a tutti per essere qui a Napoli, perché oggi è una bella festa di sport, di amicizia, di giovani, perché per tanti giovani in questo momento è importante, ma soprattutto di comunità, perché Napoli è la casa della comunità e ci teniamo molto che questo evento venga vissuto da tutti voi con grande rostecipazione e con grande accoglienza da parte della nostra bellissima città. Grazie a tutti per essere qui.